I pescatori di acque interne sono dei profondi conoscitori di tutto l'habitat fluviale. Come i cacciatori lo sono di boschi, sentieri, colline, anche loro conoscono palmo a palmo il territorio dove praticano il loro sport preferito. Ogni ansa, ogni buca, ogni sponda del fiume o del lago per loro non hanno segreti. Come i loro cugini cacciatori sono delle vere sentinelle dell'ambiente. Nulla gli sfugge, se qualcosa non è per il verso giusto, sono i primi ad accorgersene. Come è avvenuto ad un gruppo di esperti e navigati pescatori dei nostri corsi d'acqua che ci hanno contattato perché purtroppo, sempre più spesso ed ultimamente, da diverso tempo anche, incappano in pescatori di frodo che pescano con metodi illegali e che con le loro reti fanno enormi danni all'ecosistema, impoverendolo sempre di più su tutti. i corsi d'acqua del nostro territorio, Cesano, Metauro, Misa e Foglia. C'è molto braconaggio, pescano con le reti, controlli niente. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato la morte del fiume perché di pesce non ce n'è più. Con le reti fanno tanti danni, fanno stragi di pesce. Vedete tante in giro? Ci sono, ci sono, però non sappiamo dove, li vediamo al momento che andiamo a pesca. In tutta questa zona, cioè non c'è una zona precisa, sono ovunque? In tutto il Metauro, partendo dall'alto, venendo giù fino alla foce, dalla Qualagna, venendo giù, da Fermignano anche, fanno pulire questa gente che o con le reti o con le fiocine, cioè è una roba che bisogna scappare qualche volta. Pesce si riesce a portare via in questo modo? Ah, anche chili. Chili e chili? Eh sì, chili, perché carp, cavedani. Questa è la terza, questa è la terza, la terza vete ragazzi. Il loro è un vero grido di aiuto che rivolgono a chi ha il compito di sorvegliare e punire chi compie questi atti illegali e azioni sconsiderate per l'ambiente, anche perché loro praticano una pesca sportiva, ovvero con il rilascio a fine sessione di pesca degli esemplari pescati che rimangono sempre vivi e vitali. I pescatori di frodo invece fanno vere e proprie stragi. Guardate i pesci che ci sono attaccati. Poi la rete continua, la rete prende tutto il fiume, la rete prende tutta la gorga. Vorreste che ci fosse più rispetto? Più controllo. Più controllo. Più controllo. Ma non solo noi in controllo, il controllo a quelli che fanno danno, perché io da pensionato lo rilascio, addirittura ci vado anche senza nassa pesca, quindi non faccio danni.